buongiorno buongiorno oggi mega colazione perché oggi mi sento affamato affamato ora vi faccio vedere il conte cosa ha preso e poi io non mi picchiai nendiri sti cosa ha preso quasi tutto lui tanto ora vi faccio... aspetta già mi sta spostando il vassoio... buongiorno perché mi hai spostato il vassoio con i dolci ma tu non sono i tuoi tutti così dolci cosa c'è qua vediamo un altro dolcino tutto mio dolci questo questo che è bello cornetto tutto per te tutto per te tieni tieni ah io sono chiesto solo acqua io e tu tutti sti cosi caffè cappuccino calma dammi qualcosa a me che il direttore ha offerto anche a me ha detto voi siete morti di fame quindi offro anche a voi 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 sono io di voi mi ha dato scelta vabbè ragazzi a dopo io mi gusto il mio bicchiere d'acqua scelta ma com'è amore come buono alla cannella con pistacchio topper di pistacchio ma veramente non lo fanno al pistacchio lo fanno solo così no me l'hanno fatto a me ha un esclusiva certo vabbè ragazzi io mi prendo il cappuccino e l'acqua vabbè ragazzo a dopo vado